Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi siamo entusiasti di presentarvi un'opportunità unica nel cuore di Trani, nella rinomata zona di Sant'Angelo. Questo attico, in condizioni impeccabili, offre il massimo del comfort dello stile in un contesto residenziale tranquillo e sicuro. Situato all'interno di un complesso recintato con ingresso sia pedonale che carrabile, questo appartamento offre sicurezza e tranquillità per tutta la famiglia. Barcando la porta d'ingresso sarete accolti da un ampio salone, illuminato da un triplo punto luce, con accesso diretto ad una veranda chiusa con vetrate. Qui è stato creato un angolo cottura, perfetto per pranzi e cene all'aperto, godendo della brezza marina. La cucina abitabile è dotata di un pratico angolo dispensa e di una zona lavanderia, offrendo tutto lo spazio di cui avete bisogno per preparare i vostri piatti preferiti. Attraversando il disimpegno accedete alla zona notte, dove trovate due confortevoli camere da letto e un bagno padronale completo di vasca. La camera matrimoniale dispone anche di un bagno privato con box doccia. Completa la soluzione un box auto e un posto auto, garantendo comodità e praticità per voi e vostri ospiti. Non perdete l'opportunità di acquistare questo splendido appartamento e vivere la vita che avete sempre sognato a Trano. Contattaci oggi stesso per organizzare una visita e scoprire di più su questa straordinaria opportunità. Ciao, alla prossima! Ciao!